salve a tutti ragazzi sono zomivest qui con un video speciale la cinquantesima custom è già qua con me però ci sono purtroppo siamo solo in tre ma però siamo tre persone convinte non sono così cattivo c'è qua il nostro come posso dire il nostro la nostra la nostra jumbo colui che ha iniziato le casse bravo colui che ha partecipato alla prima custom insieme a fra che purtroppo non è qui che purtroppo non è qui con noi jumbo 92 salve poi c'è il nostro amico ciaone il nostro amico ciaone simone e ho deciso di iniziare da qua per far vedere il menu epico di questa mappa cryogenic consigliataci da voi clicchiamo su play online andiamo a dostare una partita e ragazzi noi da belluno laghiamo e facciamo laggare io soprattutto premessa 460 mega se chi l'ha consigliata consigliato una mappa orribile ma non penso perché solo dal menu io sto eiaculando sì sì siamo in due sì eccellente direi che siamo in tre esatto forse anche quattro grandi aspettative grandi aspettative mappa dal peso di 450 mega e e quindi ragazzi andiamo a giocare questa mappa cryogenic convintissime a cinquantissima custom partiamo oh mio dio ha fatto un fumetto contenente tutti i fumetti di tutte le mappe è l'edizione limitata ci sono tutti c'è c'è naderantoten c'è verrut c'è shinonuma c'è the rice c'è shangrila c'è moon c'è tutte le mappe che conosco oh mio dio c'è colorate dead c'è dei rice quindi potrebbe essere tipo miscu la mappa suprema oh mio dio ragazzi siamo in game cos'è qua oh mio dio ragazzi siamo in game il pompiere paura non è il coltello il coltello è qualcosa di bruttissimo oh mio dio è sciotta questa pistola cos'è una deserti è una magnum cazzo che cazzo è sta voce cos'era sta roba nooo oh mio dio ragazzi attenzione questa cosa sta piovendo cos'è sta oddio corrono oh mio dio come corrono ok sono a terra ma no a razzano jambu non ti preoccupare che c'è giocatore forte ho fatto una cazzata ho tirato una grata sotto i miei piedi tranquillo tranquillo ti ha rianimato il giocatore forte non c'è pericolo ma sta sta cos'è sta roba rossa in cielo non lo so penso che sia un tipo bordenico adesso adesso vediamo 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 boh ah ma io eh si ho fatto la cazzata oh ragazzi sono tanto cattivi questi zombie attenzione ragazzi comunque è figata il mirino c'è una volkswagen una volkswagen eh sono tipo a fianco a una volkswagen che è questo mirino ragazzi per credere di marti parami il culo vai 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 ti copro io non c'è nessuno io sono andato dall'altra parte della mappa vedo teletransporti ovunque mi sento delle voci parlare sotto qualità molto alta vedo la cassa oddio dove sei sto vedendo da lei cipoti vota jimbo jambu cos'è sto parlando jimbo 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 oh mio dio guarda sul ghiaccio si scivola come sul ghiaccio si scivola guarda aspetta che entro indietro aspetta che entro indietro non si può neanche oh mio dio oddio è vero si scivola ok basta il pulmino di nuke town 2000 ho dovuto spendere per la co ragazza in la casa ragazzi ok ok il pulmino di newton ragazzi cosa è un miscuglio di tante cose guarda che fighata rond 4 in basso ho trovato cos'è un arma di halo credo mirko giro ti spara perchè c'è brutta gente io sonora fanno farsi dalle mani veloce 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 perché non riesca a coprire. аться cellista che tranquilli esso prendo un mitra e volga gali 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 bene 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 tutto bene da quel modo Lui da Belluno Ho visto un canone Zeus Commando, commando Cani, cani, ok, perfetto, ci sono i cani Amate granate Non ho guardato le armi che escono Ok, no, la FNP Vabbè, prendiamolo Ok, ragazzi, tranquillo, il round dei cani dovrebbe essere facile Ho bisogno di punteggiù, che non ce la faccio più con questa Pistolina qua Cazzo, è vero? Jaumu, io vedo comprare un sacco di armi fighe È stato trovato l'urso Non l'ho mai visto Non so che darmi figo, un attimo che basso giù Via, via qua, ok Vai, 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 oh mio Dio Via, 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 via Ma cos'è sta, cosa roba, oddio i cani C'è tipo un cane che ha scorreggiato fuoco di colpo Guarda, ah, ma che roba Sì, sì, sì Ok, niente, ci sono cattivissime Sono cattivissime, sono cattivissime Ma ce la si fa, ce la si fa Ce la si fa, sì, sì, questo è fattibile Oh mio Dio, una custom speciale Per un traguardo speciale 50 custom, ragazzi C'è 50, Jambu, 50 No, no, no Io direi che in questo cinquantesimo video faremo anche delle valutazioni sulle custom giocate Un ad uno C'è, ci sono le ammo, ricaricate Premette il tasto R della vostra tastiera Bene Appena avete pigiato il tasto R Ditemi che io pigio W Ok, meglio andare Io non lo so, ma ne vado nel ghiaccio Nel ghiaccio, sto con te nel ghiaccio Come gli zombie, non so se hai notato, ma corrono Grazie, io sono nello spawn solo Ce li ho tutti io Ok, arriviamo, arriviamo Gli zombie corrono un sacco, Jambu Non so se lei ha notato Sì, sì, sì I miei corrono tre sacchi Perché ce li avevo tutti io Com'è possibile Ah, una cosa Cerchiamo di lasciare l'ultimo vivo Perché... Attento, Jambu, tra le macchine Perché ci si blocca, eh Ok Ci si blocca molto facilmente tra le macchine Arrivo, Jambu Oh, Jambu, gira e spara, gira e spara Ok Aiuto, nel c'è il sito, aiuto Ti troganate Ok, ok Vai, che ti copro Vai, che ti copro Vai, 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 vai Dai, non mori da Jambu Ciglio io, ciglio io Oh, grazie Mega grazie Madonna mia, che salvataggio, ragazzi L'ultimo, l'ultimo vivo Oh, l'ultimo, l'ultimo Lasciatelo, lasciatelo Perfetto, allora, ragioniamo Il jug, il jug, un ju box davanti 2.000, costa 2.000 questo portoncino inferno No, la corrente, ce la corrente Aprite questo portoncino È importante, sì, la corrente è importante Oh, c'è un ju box, costa 10 La spingarda, ho trovato la spingarda Dove l'hai trovata? Nella cassa, perfetto Che culo Che culo Faccio una cassa, va Che cambio sta Oddio, cos'è sta roba qua No Uh Quella di Call of the Dead Cosa c'era nella mia cassa? Quella di Call of the Dead, quella di Call of the Dead No Ma cosa? Non sono più là Lo sciacallo Ma no, cos'è quel teletrasporto che è comparso in mezzo alla baffa Perché siete, oh cazzo Sono entrato in una palla Bene, esatto Oh, ciao, sei sul tetto Oh, io sono dall'altra parte della mappa C'è Ok, io adesso sono dall'altra parte Dobbiamo vedere Dobbiamo vedere Stiamo salendo Cosa bisogna vedere? Ehm Non mi piace però Come non ti piace? Andiamo, andiamo a vedere Mi ricorda anche un po' Project X questa parte della mappa C'è uno zombie che sta salendo, faccia attenzione Sì, è zoppo E' quello zoppo che è in grado di salire le spalle Guarda qua E' più abile di me durante educazione fisica Ve lo porto via Ve lo porto via Cos'è sta cosa? No, no, leggete il monitor Leggi il monitor Call the Lunar Lander Oh, cazzo Oh, mio Dio Oh, cazzo Mi ricorda Rocket Base C'è uno di ucciderlo Per rendere più monumentata la cosa Rocket Base più che altro Rocket Base No! Jim, tu... Lei... Sa che si è condannato a morte? Perché? Ho detto che... Jim, hai fatto una cagata Ah, lol Sono proprio caduto male Guarda qua Un insta kill Che vi aiuterà Oh, cazzo Quanti sono Morto, morto Ehm... Cosa faccio? C'è l'instante? Sì, c'è l'instante Ah, no, è per due Ah, ok, va bene Io provo di animare Uno delle due persone C'è tanti zombie dietro Ci provo Oh mio Dio, la mia... La pistola è fortissima La pistola è fortissima Jambu, stai riempiendo la cassa Jambu, stai riempiendo... Oh mio Dio Eh no, eh no, eh no, eh no, eh no, eh no Porca troia, no Cazzo, arrivano da tutte le parti No, avevo... avevo la spingata Jambu, avevo la spingata No, cazzo Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta È difficile, è difficile, ragazzi È difficile È easy, è easy Allora, ragazzi Concentiamoci Beh, secondo me Sì, non dobbiamo intanto trovarci in quelle casette Perché è un... Sì, sì, no No, quello là direi Comunque, non so se avete notato Ma, mentre Jambu sparava dentro quella casetta Stava riempiendo la cassa Per una cassa Tipo quella di Origins Ah, ok, ok, ok Oh mio Dio, quindi c'è tanta roba qua dentro È tutto Troppa roba in un colpo solo Non si capisce assolutamente niente Io non so se posso reggere Il mio cuore sta subendo troppe emozioni Più di... Sì Più di te, Francisco, insieme Giù Esattamente Francesco Ah, una cosa La corrente non attiva le bibite Ma attiva qualcos'altro Perché... Le bibite sono già attivate? Sì No, le attiva la corrente No, no, però tu il quickervail prima Ah, ok Ma solo il quickervail è attivo Beh, ma noi avevamo attivato la corrente comunque Jambu prima O no? Ah, guarda, vedi? Questa bibita qua prima era anche illuminata Adesso è buia Eh, sì, sì Alcune sì, sì Alcune sì Alcune sì Alcune sì Alcune sì Dobbiamo provvedere a... Ad andare a trovare la corrente prima di tutto Poi trovare Jug Sì Corrente e Jug I nostri obiettivi No, ma... Gimbo cosa mi combina lei? Eh, guarda Giambo, oddio Non ci credo Scusate ragazzi Ecco posso Salve Questa era una prova per farvi vedere come stavamo citando Prova generale Ok Noi non stiamo usando i trucchi Noi siamo molto forti Sì, sì No, ma... Però sono veramente tanta roba Ok, teniamo... Teniamo gli spawn Mamma Cioè, sti... Sti... Sti zombie sono veramente... Incazzati Vabbè Ho gli uccisi comunque qualcuno Teniamo gli spawn ragazzi Io non vorrei dire ma... Teniamo gli spawn Via via Che figata il numero dei round in basso però è davvero molto bello No, fa schifo Vabbè piace un sacco Sì C'è un... Ho trovato un doppi punto Ma è passato tipo dal 2 al 3 in mezzo secondo Sì, sì I zombie sono una roba stranissima In base a che cosa? In base... A quale legge di code... Ok, cazzo... Questa fisica... No, non è vero Non abbiamo avuto energia, energia Vado a aprire la corrente Apro io, apro io, apro io Vado, vado, vado Vado a aprire la porta Vado a aprire la porta Quanto costa questo Gbox? 10 Non attivi Eccola qua la cassa Ah, l'ho trovato Direi di riempirla Ammo 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 per andare alla cassa Ammo per andare alla cassa Ammo per andare alla cassa ragazzi Sei riuscito a prenderla Mi fate un grosso favore Sto riempiendo la cassa io No, io sono entrato nel... Nella pallina Che cazzo di canzone ha attivato Non si capisce niente No, non lo so Ho premuto un tasto a casa LOL Perdonatemi, colpa mia Sempre io quello che crea casino dentro le cose Io sto riempiendo la cassa qui, comunque, eh Ok Ok Già un busso qua dentro Io sono in mezzo al giardino In cerca di cose da scoprire Questa musica? Bella Umi, simbola 5 Ecco qua la cassa È rimasto un zonata Che allora la sentiamo insieme anche noi Senti che roba Senti che roba Ma senti come sale la botta Senti che sound Ma siamo sicuri che non abbia il copyright Call the lunar lander Iiiiiiii Ragazzi Salve Oddio Fermi, si fermi Dove sta andato? Oh mio Dio Guarda c'è cibo che vola Ho trovato un... Alla session Alla session Oh mio Dio Ma dove è andato a finire? Boh, mi sono buggato fuori dalla mappa Ok, sono rientrato nella mappa Forse sarà il pack a punch lì F per usare... Uh, c'è il pack a punch qua Eh, immaginavo Premi F to play a song Basta song per l'amore del cielo Grazie Grazie Grazie